Ciao mio caro amico aspirante, trader, professionista e profittevole Oggi è martedì 23 luglio 2019 Permetti di mostrarti quel che ho fatto Bene, questo è il market profile di ieri P2Session E abbiamo avuto un inside day Come vedi il giorno di ieri è dentro il giorno precedente E importanti livelli in questo caso sono la value area high, la linea rossa e la value area low, la linea blu Naturalmente l'overnight session, l'Asia Session ha rotto il massimo P2S di ieri E nella London Session il mercato continuerà ad andare a rialzo In questo scenario di una gap up opening Perché vedi il prezzo era qua, l'apertura era qua E quindi un intermedio gap rispetto al massimo P2S di ieri Io ho scelto di andare con un 3D long, un quick scalp long Quando ho visto il configurarsi di smart buyers Comprare proprio a un punto, vedi questa linea sottile è il midpoint Nella sessione overnight, vedi qua Ho visto smart buyers comprare qua Io ho messo i miei 5 ordini pendenti buy Il mercato mi esegue il mio stop loss strutturale Due tick sotto il massimo P2S di ieri, quindi sotto la chiusura del gap I miei primi 4 target sul midpoint della sessione P2S, l'ultimo target addirittura sul massimo overnight Bene, il mercato come vedi dopo la mia entrata in un minuto mi va praticamente subito a target Mi è andata a target come vedi ma da market profile Perché c'era questo importante indizio Poi ho messo il mio stop loss a brecchive, da qua sotto a qua E ho aspettato che il mercato avesse una spinta in volatilità rialzo Ma purtroppo non è accaduto E il mercato mi ha stoppato un 3D stock profit E con questo 3D della giornata ho preso 300$ Caro amico, se anche ti potete andare in questo modo O fare anche meglio il mercato dei fiusi e delle azioni delle opzioni Allora scrivi al vostro adesso e mando il link sotto a questo video Vi ti auguro grazie, grossi e succosi e profitti Ad ogni tua prossima sessione di training Ci vediamo domani al prossimo 3 Profitteve Ciao